Palla banca, abbiamo Tavares, prestazione ottima di Piacenza che ha fatto vedere una pallavolo veramente eccezionale in alcuni frangenti, però poi Perugia ha scelto fuori e c'è stata questa sconditta al tie-trek. Ottima era se vincevamo, però almeno non abbiamo la risposta dopo una partita che non abbiamo giocato così bene contro Latina, almeno una risposta abbiamo data e secondo me basta crederci che se crediamo in noi stessi possiamo far bene, possiamo giocare come abbiamo giocato oggi, con grinta, con atteggiamento e tutto quello lì e i risultati arriveranno, cioè se continuiamo così a lavorare bene durante la settimana e a fare queste partite al weekend, prima o poi i risultati arrivano. Cosa ti è piaciuto di più? Forse la capabilità, la reazione alla prestazione contro Latina? Penso che quello che mi è piaciuto di più è stata la squadra, perché dopo le tante sconfitte e tantissime poche vittorie non è facile continuare tutti insieme, a ruotare insieme, a provare a vincere e quello abbiamo fatto oggi e sono molto contento di quello. Grazie!